Voglio nuotare in una piscina grande grande. Era questo il sogno di Vincenzo, tre anni, che qualche giorno fa ha potuto coronare il suo sogno nella piscina olimpionica Scandone di Napoli. Vincenzo, figlio di Piera e Francesco, è affetto da neuroblastoma e da quasi un anno è in cura nel reparto di oncologia pediatrica del Santo Bono dell'equip del dottor Abbate. Il bambino, a cui mamma Piera ha trasmesso un grande amore per il nuoto, ha sempre desiderato ritornare in piscina. E grazie allo sportello dei sogni, associazione di volontariato che si occupa di realizzare i sogni dei malati di cancro dai 3 ai 99 anni e che ha sede a Salerno, il desiderio del piccolo Vincenzo è stato realizzato. Da sottolineare anche la collaborazione del Comune di Napoli nella persona di Emanuela Ferrante, assessore allo sport, e della Rarinantes Delfino Flegrea. La piscina olimpionica Felice Scandone è stata messa a completa disposizione di Vincenzo e gli atleti della Rarinantes Delfino Flegrea hanno accompagnato il piccolo nel suo ritorno in acqua nei panni di Aladin, il genio della lampada, personaggio preferito dal piccolo Vincenzo.